Se è interessato alla consulenza psicologica online, come psicoterapeuta, oltre a offrire delle consulenze di psicoterapia in privato nel mio studio, offro anche delle consulenze di psicoterapia breve online a chi vuole riprendere in mano la propria vita, a chi vuole migliorarsi oppure a chi vuole semplicemente andare ad analizzare il proprio vissuto in chiave psicologica ricevendo un punto di vista professionale specifico e diretto. La consulenza online è un servizio certamente comodo ed efficace e può essere utile per chiunque voglia intraprendere un percorso, magari scegliendo un professionista a distanza dalla propria città e che quindi non è facilmente raggiungibile. Grazie al supporto psicologico e alla psicoterapia online riesco ad aiutare tantissime persone a migliorare la propria vita oppure a risolvere anche quelle problematiche come ansia, attacchi di panico, problemi relazionali, quando queste persone per svariati motivi non possono appunto raggiungermi nel mio studio privato dove svolgo l'attività come psicoterapeuta. Il tutto grazie all'utilizzo anche di piattaforme come Zoom, Whatsapp, Skype, Meet eccetera. Come succede per la psicoterapia in presenza? L'obiettivo della terapia online è quello di lavorare rispettivamente sulla definizione del problema e su quegli aspetti anche della personalità che fino ad ora sono stati reiterati in maniera inconscia e che hanno portato alla manifestazione dei sintomi e del malessere che poi hanno portato la persona a chiedere un aiuto psicologico. A chi si rivolge questo tipo di consulenza online? A tutti coloro che si trovano a vivere un particolare momento di difficoltà e sofferenza personale o a coloro che vogliono dare importanza al benessere e alla propria crescita personale? Le problematiche trattate sono ansia, attacchi di panico, problemi relazionali, di coppia, depressione o problemi di autostima. Il metodo che utilizzo è quello della ISTDP. è un metodo di psicoterapia breve capace di lavorare appunto sul numero di sedute ridotte. È un metodo quindi veloce ed efficace perché si va a lavorare con aspetti inconsci della propria personalità, la cui presa di consapevolezza porta a un cambiamento e a un miglioramento della qualità della propria vita. Se sei interessata a fissare un primo colloquio contattami al link che troverai sotto.